È un evento importante perché innanzitutto coniuga due aspetti per noi strategici, cioè la salute del donatore, che è una persona che gode appunto di uno stato di salute buono per poter donare il sangue, con corretti stili di vita, legati quindi a una buona alimentazione, ma anche a una buona attività fisica e quindi allo sport. E poi che ha come finalità l'evento, quello di poter raccogliere dei fondi finalizzati all'acquisto, al finanziamento di uno strumento come l'automoteca che serve a garantire in termini di qualità e sicurezza la raccolta del sangue dei donatori sul territorio, cioè coloro i quali vivono magari in comuni o in realtà lontane da dove esistono i servizi trasfusionali pubblici, ovviamente non potendo fare la donazione in locali e spazi che non sono a livello sanitario autorizzati a poter accogliere questo tipo di attività, vengono raggiunti da questo mezzo mobile, che è un mezzo che avrebbe nel futuro, dopo l'acquisto, le caratteristiche per poter garantire la sicurezza del donatore, ma anche la standardizzazione degli emocomponenti raccolti per assicurare una terapia sicura ai pazienti e quindi incrementare il numero delle donazioni e garantire sempre una disponibilità di sangue e di emocomponenti e poi dal plasma, di medicinali plasma derivati per tutti i cittadini bisognosi di questa terapia. La donazione è l'unico modo per poter avere il sangue, il sangue non si fabbrica in laboratorio, non si ottiene dalla lavorazione industriale o farmaceutica, l'unico modo per garantire questa terapia ai pazienti attraverso una donazione volontaria e responsabile, che richiede innanzitutto la conoscenza dell'atto in sé e poi la disponibilità e il consenso di volontariamente dare qualche cosa per gli altri di se stessi.